Ad accogliere i genitori e gli studenti che sono giunti nella visita al convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso è stata la professoressa Rossella Gianfagna, il primo rettore donna dell'istituzione scolastica che ha un'età assai matura, oltre due secoli, ma è sempre più vitale e moderna attraverso i suoi percorsi formativi ed i progetti innovativi. È stato questo l'ultimo Open Day prima della fine di gennaio, la data finale per scegliere la scuola che si frequenterà nell'anno scolastico 2023-2024 ed i programmi di insegnamento che si affronteranno nel più prossimo futuro. Il convitto accoglie i piccoli alunni della scuola primaria, quelli un po' più grandi della secondaria di primo grado e gli studenti del liceo scientifico, mentre sono attivi diversi progetti e naturalmente una sempre interessante offerta di servizi, mensa, convitto, semiconvitto, personale educativo e tanto altro. Siamo qui con le porte aperte del convitto, è l'ultimo Open Day, quindi perché alla fine del mese bisogna comunque scegliere e decidere la scuola ed è giusto essere qui a cogliere i genitori e i ragazzi perché si trovano a fare una scelta importante, che per i ragazzi della scuola superiore è una scelta di vita, chiaramente la scelgono loro il percorso e quello che più li appassiona e che vogliono fare nella vita, mentre per quanto riguarda i bambini, quindi l'istituto comprensivo è una scelta fatta più dai genitori con i ragazzi e con i bambini e quindi è giusto accoglierli, illustrare quella che è la nostra offerta formativa e far conoscere questa bella realtà. Il convitto nazionale Mario Pagano è anche scuola internazionale, quindi abbiamo anche il percorso Cambridge e chiaramente ha un'organizzazione diversa dalle altre scuole perché c'è l'attività di semi convitto, quindi abbiamo la figura degli educatori il pomeriggio per poter far fare i compiti e quindi dopo aver studiato la mattina, la mensa, la pausa, c'è la possibilità di studiare e anche qui appunto non soltanto con la figura degli educatori ma anche dando proprio il metodo di studio, quello delle mappe mentali, accompagniamo i ragazzi a 360 gradi nel loro percorso di studio.